Ora va, venga il temore sono stato morto nato lei mi ha toccato è giusto guarda io lei è giusto nein, per favore, Otra mi ha toccato non mi ha toccato vabbè, non mi ha toccato mamma mia, no, no, no per favore per favore come hai fatto? brrr brrr dai no come hai fatto? vai va forte in curva no va forte no dai come è brutto Diego oddio 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 va a terra aspettanti ... ehi è andata va al macellaio ahahah ... vieni... ormai ora gli ti diamo l'impressione a caldo ma tu stavi attraversando la strada senza guardare? disgraziata ma gli hanno trovato i pesci anche da cliccato andiamo amore Sara vieni non c'è più che fa ancora basta aspetta Lara non c'ho niente impressione a caldo? andate a fare ancora ahahah non c'è non c'è non c'è